Buonasera e ben trovati in questa terza edizione del Tg6 in apertura la cronaca con un grave incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Val di Foro nel territorio comunale di Ripa Teatina in provincia di Chieti è stato travolto da un'auto mentre stava scaricando un trattore Luigi Angelo Paolucci 54enne di Lanciano la procura di Chieti ha aperto un fascicolo a carico del conducente della vettura piombata sull'uomo un medico rimasto illeso e accusato di omicidio colposo aveva appena finito di scaricare un trattore di fronte all'azienda a fini macchine agricole lungo la Val di Foro nel territorio di Ripa Teatina le rampe erano ancora abbassate quando sulla bisarca è piombata una Alfa Romeo Giulietta che prima è salita con la ruota anteriore destra sulla rampa esterna del mezzo pesante poi si è messa di taglio travolgendo il dipendente della ditta che era nei pressi del camion Luigi Angelo Paolucci 54enne di Lanciano ed infine ha terminato la sua corsa ribaltandosi sul ciglio della carreggiata opposta questa la dinamica del grave incidente avvenuto poco prima di mezzogiorno è rimasto illeso invece il conducente della vettura un medico ospedaliero 56enne così come il collega della vittima che stava aiutando nelle operazioni di scarico del mezzo agricolo entrambi sono in stato di shock mentre per Paolucci non c'è stato nulla da fare inutili soccorsi dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco che non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul colpo del 54enne Frentano. Gli uomini della polizia stradale di Chieti sono al lavoro per appurare con certezza la dinamica dell'incidente. Il PM della procura di Chieti Giuseppe Falasca ha disposto l'esame esterno del corpo della vittima ed ha aperto un fascicolo a carico del conducente della Giulietta con l'ipotesi di omicidio colposo. E da questa mattina un giovane di 28 anni è disperso a largo delle coste Terramane a dare l'allarme è stato l'amico che era con lui al momento della immersione e che non vedendolo più riemergere ha chiamato i soccorritori. Sono ancora in corso le operazioni di ricerca di un giovane somozzatore disperso da questa mattina alle ore 10 a 12 miglia dalla costa Terramana tra Pineto e Roseto degli Abruzzi nei pressi della piattaforma per estrazione di idrocarburi denominata Squalo. A dare l'allarme è stato l'amico che si era immerso con lui e il quale non vedendolo più riemergere ha chiamato i soccorsi. Le operazioni di ricerca sono coordinate dalla capitaneria di porto di Pescara anche se la base operativa è stata allestita al porto di Giulianova. Il giovane ha 28 anni ed è di Pescara. Nel punto dove si era immerso la profondità raggiunge i 74 metri. Nella prima fase i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno perlustrato tutta l'area circostante fino al limite dei 50 metri oltre il quale non è possibile spingersi. Così per proseguire le ricerche fino al fondale i vigili del fuoco e la guardia costiera hanno richiesto l'ausilio di attrezzature specifiche. Il nucleo sommozzatori di San Benedetto del Tronto ha messo a disposizione un robot. Nelle prossime ore giungerà da Catanzaro un altro robot dotato di particolari sonar capaci di scandagliare al meglio i fondali e richiesto dai vigili del fuoco di Teramo. Tra le ipotesi i due giovani si sarebbero immersi per effettuare attività di pesca subacquea. C'è il rischio che nel corso della battuta il disperso sia andato incontro a sincope anossica, uno dei pericoli della pesca in apnea, quando sparando a una preda si rischia di essere trascinati oltre i 15 metri. L'amico del 28enne, pescarese anche egli, è stato ascoltato nel pomeriggio negli uffici della Capitaneria di Porto di Pescara. Le ricerche finora non hanno dato esito. In seguito le autorità competenti dovranno valutare se il punto di immersione dei due sommozzatori sia stato conforme alla distanza dalla piattaforma consentita dalla legge. Fu Gennaro Varone con il quale condividevo la passione per la musica a spingermi a presentare Querela. E' uno dei passaggi chiave della testimonianza resta questa mattina davanti al Tribunale collegiale di Pescara da parte di Andrea Mascitti, l'imprenditore dello spettacolo, costituitosi parte civile, che con una sua denuncia ha fatto scattare l'inchiesta denominata il VAT sui contributi alle manifestazioni. Nel processo sono imputati con le accuse a vario titolo di concussione, corruzione, induzione in debita a dare o promettere utilità, truffa, peculato, abuso e falso. L'ex assessore regionale alla cultura Luigi De Fanis, il rappresentante legale dell'associazione Abruzzo Antico, Ermanno Falone, il responsabile dell'Agenzia per la promozione culturale della regione Rosa Gianmarco e l'imprenditore Antonio Di Domenica. Lucia Zingariello, ex segretaria di De Fanis, per questa vicenda ha già patteggiato una condanna ad un anno e 11 mesi di reclusione. Proprio la Zingariello questa mattina sarebbe dovuta comparire per essere ascoltata in qualità di testimone, ma non si è presentata per ragioni di salute e sarà ascoltata così il prossimo 23 novembre. Nel corso delle deposizioni uno degli investigatori della forestale, Michele Brunozzi, ha riferito di una intercettazione della Zingariello in cui De Fanis avrebbe saputo da Chiodi e Venturoni di essere indagato. Proseguiamo con il prossimo servizio, secondo Restitution Day per i consiglieri regionali abruzzesi del Movimento 5 Stelle che in due anni hanno raccolto 405.939 euro di tagli alle indenità per restituirli tramite un fondo regionale per il microcredito alle attività imprenditoriali della regione. Restitution Day Abruzzo, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle rendicontano i loro stipendi dimezzati a favore dei cittadini in difficoltà. 400 mila euro il totale finito nel fondo destinato a sostenere le aziende, 29 quelle che ne hanno beneficiato grazie a Pettinari, Marcozzi, Mercante, Ranieri e Smargiassi. Oltre 400 mila euro restituiti in due anni, 5 consiglieri regionali che senza che ci fosse una legge nazionale, senza che ci fosse una riforma della Costituzione, hanno messo mano al proprio portafoglio e restituito alla collettività 400 mila euro di stipendi. Abbiamo già finanziato col microcredito ai 5 Stelle 29 aziende in Abruzzo, quindi abbiamo creato un fondo che finanzia le piccole e medie imprese, 29 aziende sono partite grazie alla restituzione dei 5 consiglieri regionali, colleghi Mercante, Smargiassi, Marcozzi, Ranieri e Pettinari, quindi abbiamo fatto una delle più grandi rivoluzioni della storia anche in Abruzzo. E dopo il rendiconto Pettinari rilancia la legge sul dimezzamento degli stipendi di tutti i politici regionali e anche dei parlamentari. Abbiamo presentato la nostra legge che sta ancora ad impolverirsi all'interno dei cassetti per dimezzare i loro stipendi, quelli degli assessori regionali, dei consiglieri regionali, del Presidente della Regione, purtroppo non è stata approvata, addirittura è stata rinviata in Commissione, come ieri hanno fatto in Parlamento. è stata calendarizzata la nostra legge per il dimezzamento di tutti i parlamentari e lo hanno ributtata in Commissione. Questa è una grande vergogna. Oltre 50 commercianti terramani hanno deciso di rivolgersi ad un legale per chiedere un risarcimento danni al Comune di Teramo per i ritardi dei lavori di rifacimento di Corso San Giorgio. La cifra che dovrebbe ristorare gli esercenti dai mancati introiti da febbraio fino alla fine di novembre si aggirerebbe tra i 500 mila e il milione di euro. Danni quantificabili tra i 500 e un milione di euro. E' questa la cifra che 50 commercianti di Corso San Giorgio richiederanno presso al Comune di Teramo, come il risarcimento per mancati introiti, mancati ricavi e disaffezione della clientela. Gli esercenti terramani puntano il dito contro gli ingiustificati ritardi dei lavori di rifacimento del Corso Nuovo, che sono rimasti bloccati per più di cinque mesi a causa di un ritrovamento archeologico, rimosso la scorsa settimana in una sola giornata. Antonio Tupitti, portavoce dei commercianti di Corso San Giorgio, annuncia di aver dato mandato all'Avvocato Gianni Fragassi al fine di stabilire con precisione scientifica il danno subito da ognuna delle attività commerciali da febbraio ad oggi e di chiedere il conseguente ristoro all'amministrazione comunale, ente appaltante dell'intero progetto. Intanto i lavori, fermi da cinque mesi, sono ripresi spediti dopo che la soprintendenza regionale ha dato il suo nulla osta a rimuovere porzioni di un antico acquedotto romano affiorato nel momento dello scavo davanti alla banca Tercas. Secondo il nuovo cronoprogramma del Comune, il massetto fino a Piazza Garibaldi dovrebbe essere completato entro la fine di novembre ed anche le transenne dovrebbero sparire per permettere lo shopping natalizio. Mancherebbe poi la pavimentazione, sbagliata di colore in un primo momento. Quella giusta è in arrivo dalla Cina, che si spera si avvicina. Questa mattina gli studenti dell'Istituto Moretti di Roseto degli Abruzzi hanno scioperato contestando la decisione del dirigente scolastico sulla vicenda delle otto classi chiuse per pavimenti non idonei. Così come anticipato nei giorni scorsi è andata in scena questa mattina la protesta degli studenti dell'Istituto Moretti di Roseto degli Abruzzi che contestano la decisione della preside del corpo docente di far frequentare di pomeriggio le lezioni ai 160 allievi rimasti momentaneamente senza aule. Tutto è cominciato a settembre dopo un controllo della ASL da cui è emerso che sotto il pavimento sconnesso di alcune aule ci sarebbero delle sostanze potenzialmente tossiche, in particolare amianto. Anche se, come spiegato dalla preside, i rischi sono quasi pari a zero in quanto sarebbe impossibile che le fibre contenute nelle mattonelle possano disperdersi nell'aria, la ASL ha imposto alla provincia, da cui dipende il Moretti, di rimuovere i pavimenti deteriorati secondo protocolli ben precisi e nella massima sicurezza. Il problema riguarda otto aule che saranno chiuse per le prossime quattro settimane. La scuola ha quindi scelto la strada dei turni pomeridiani, ma gli studenti non sono d'accordo. Ci aspettiamo la risposta di trovare un'altra sede dove queste otto classi che saranno occupate dai lavori possano andare a fare lezioni la mattina, come è giusto come tutti gli altri studenti. Rientrare di pomeriggio per gli studenti significherebbe dover abbandonare impegni pianificati da tempo. Molti ragazzi infatti di pomeriggio lavorano, altri sono impegnati in attività sportive, altri ancora, quelli dell'ultimo anno, frequentano il corso per la patente. Lei oggi ha ascoltato le dichiarazioni dei genitori, conosceva già questa problematica? L'ho appresa incidentalmente da un alunno la settimana scorsa, credo venerdì, ma non lo conoscevo in maniera approfondita perché, ripeto, non essendo il comune lente proprietario, non era stato informato delle problematiche inerenti ai lavori. Io posso solo, non essendo ente proprietario della struttura, posso solo chiamare la provincia di Teramo, chiamare la dirigente scolastica e rendermi quindi parte attiva per un incontro chiarificatore che conduca a risolvere questo problema. Studenti e genitori sono scesi in piazza a Città Sant'Angelo per chiedere le dimissioni del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo cittadino Reo di aver creato un clima negativo all'interno della scuola. Andiamo a vedere le ragioni di questa protesta. Democrazia, confronto, ascolto. È una scuola che torni ad essere l'emblema delle buone regole che aiutano a crescere senza prevaricare. A Città Sant'Angelo studenti e genitori scendono in piazza per protestare. Preside ha creato trenzione sia tra i docenti, tra i genitori e soprattutto con noi studenti perché non c'è più una democrazia. La scuola è democratica e questa non è una scuola democratica. La preside arriva, fa le sue leggi e ce le impone. Il clima è diventato un clima negativo, negativo allo studio. Noi studenti non vogliamo più venire a scuola per studiare perché non ci sentiamo a casa nostra, non ci sentiamo bene il fatto che i genitori non ci possono venire a prendere. I genitori sono i nostri tutori legali, per la legge possono venirci a prendere quando vogliono, ma lei lo impone. In caso di malattia il fatto che bisogna chiamare il 118, quando il 118 bisogna chiamarlo solo in casi gravi. Se un genitore vuole venire a prendere suo figlio perché sta male ha tutto il diritto di poterlo venire a prendere, non che deve mandare un'email cinque giorni prima, ma quando abbiamo chiesto un confronto dicendo questo non ci sta bene preside, lei ci ha messo un muro, ha detto no così è, io lo dico, voi lo dovete fare, punto. Voi che cosa chiedete oggi? Noi chiediamo di avere un regolamento scritto e chiaro, soprattutto valutato da noi studenti, dalla componente dei docenti e dalla componente dei genitori e non un regolamento che, come ci dice lei, non è valido. Richiesta di dimissioni per l'attuale direttore scolastico, arrivato lo scorso mese di settembre, non sono bastate le richieste di confronto da parte di insegnanti e studenti, ora il dialogo diventa uno scontro muro contro muro. Imporre delle regole solo perché la buona scuola ha dato autonomia piena a un dirigente per me non è proficuo. Avete chiesto un incontro alla preside? È stato chiesto un incontro, ma a quanto pare lei non è una persona molto disponibile al dialogo, è una persona che alza delle barriere e come unica giustificazione la scuola è mia, comando io, le regole le faccio io. Chiedete le dimissioni? Sì, sì. Università Azzu e provincia di Teramo hanno firmato una convenzione per avviare la progettazione della nuova struttura residenziale studentesca e partecipare al bando del Ministero della pubblica istruzione. La futura casa dello studente sarà realizzata nell'ex rettorato di Viale Cruciori e costerà circa 9 milioni di euro. Che Teramo avrà presto la sua casa dello studente? Università Azzu e provincia hanno firmato la convenzione per dare avvio alla progettazione e partecipare al bando del MIUR. La nuova struttura, che dovrebbe essere finanziata con 9 milioni di euro dal Ministero, sarà realizzata nell'ex rettorato di Viale Crucioli, attualmente inagibile a causa del terremoto. 9 mila metri quadri, pronti ad offrire 300 posti letto, strutture sportive e foresteria. Io penso che l'edilizia abitativa studentesca, che poi, come dirò in seguito, non è solo quello, è fondamentale per il radicamento di una struttura di formazione di ricerca come l'università in una città. Noi abbiamo varato un progetto finanziato dalla comunità europea di un dottorato internazionale che attualmente prevede 12 posti, a fronte di questi 12 posti siamo arrivati ad avere oltre 200 domande. L'edificio dell'ex rettorato di Viale Crucioli, che ospiterà la nuova casa dello studente di Teramo, è stato conferito dall'università stessa all'AZU, che provvederà direttamente alla progettazione, alle procedure di appalto e alla direzione dei lavori della nascente struttura residenziale, avvalendosi della collaborazione tecnica dell'università e della provincia. L'ipotesi di fare una casa dello studente è non solo limitata ai borsisti, quindi circa 200 posti, ma allargarlo anche a chi è studente e che vuole utilizzare questo complesso per ulteriori 100 posti letto. Nel resto poi ci sono anche altre infrastrutture che molto bene verranno previste all'interno della struttura. Parlo che so della lavanderia gettoni, della cucina sul piano, sicuramente una palestra, quindi sarà un complesso vivo che sarà appunto di riferimento per gli studenti, anche per gli studenti stranieri che verranno qui con Erasmus, eccetera. I tempi tecnici di attuazione? Nella peggiora dell'ipotesi un anno, un anno dalla scadenza del bando potremmo avere certezza di un cronoprogramma serio. La casa dello studente di Teramo è il primo progetto in ambito provinciale che si realizzerà attraverso una stretta sinergia tra istituzioni, un modello che dovrebbe portare alla razionalizzazione di risorse e competenze pubbliche. L'ASL di Teramo sta proseguendo la campagna di screening di colon, collo dell'utero e mammella. Negli utenti che lo desiderano hanno a disposizione esami preventivi che permettono di evidenziare l'insorgenza di eventuali tumori. Accanto all'attività di screening prosegue incessante anche quella di sensibilizzazione della popolazione. Ascoltiamo la coordinatrice degli screening della ASL di Teramo, il direttore sanitario, la dottoressa Maria Mattucci. Siamo qui in Atri, in questo percorso itinerante, mi piace chiamarlo, per sensibilizzare la popolazione agli screening, ma soprattutto al numero verde, all'help desk degli screening. screening. Parlare degli screening diciamo che è cosa già fatta perché già da tempo abbiamo pubblicizzato abbondantemente quella che è la campagna di prevenzione, la chiamo prevenzione, vera prevenzione perché noi ci rivolgiamo, cosa molto importante, all'utente sano, non a chi ha già una sintomatologia, non lo chiamo paziente. Quindi per me è un utente, un cittadino comune. Quindi lo sensibilizziamo ad avvicinarci agli screening per facilitare eventualmente la prevenzione, nonché una diagnosi precoce, cosa che oggi fa la differenza. Naturalmente parliamo di screening dell'utero, del tumore dell'utero, del colon, del tumore della mammella. Ma per avere notizie precise, per approfondire tutto quello che noi stiamo cercando di pubblicizzare, abbiamo pensato che era meglio rivolgerci a degli operatori che tutto questo ce lo facessero giornalmente. Ed è questo l'help desk dello screening, un numero verde al quale tutti possono telefonare tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato compreso, dalle 9 alle 17. Numero verde che è l'800 21 0002, un servizio gratuito al quale tutti possono trovare regolarmente un operatore e rivolgere le domande inerenti allo screening. Oggi i numeri ci dicono invece che abbiamo avuto un successo enorme. Io posso dire con molta umiltà, devo dirlo e con una certezza assoluta che se non avessimo avuto gli operatori dell'help desk, questi numeri noi oggi non li avremmo raggiunti. Intanto perché noi stiamo girando, ho detto prima di un percorso itinerante, questi operatori tutti girano tutto il territorio. Oggi siamo qui nel presidio di Atri, ma il prossimo appuntamento io mi sento di dire che sarà l'ospedale di Teramo. Viaggio in centro storico tra i cantieri della ricostruzione, edifici che stanno per essere ultimati e già riconsegnati dai quali emergono veri e propri tesori nascosti. L'iniziativa rientra nell'ambito della Kermess Officina L'Aquila. Si alza il sipario sulla tre giorni di Officina L'Aquila, la manifestazione dedicata alla ricostruzione post terremoto, con esperti e tecnici a confronto sulle buone pratiche e le prospettive di una città che, almeno nel cosiddetto asse centrale, sta tornando in tutto al suo splendore. Primo giorno dedicato alle visite nei cantieri di alcuni dei gioielli che a poco a poco vengono restituiti alla collettività. Tesori nascosti che i lavori di consolidamento e recupero hanno reso ancora più preziosi. Nel tour che ha abbracciato alcuni dei palazzi principali del centro, anche una vera chicca, ovvero il primo palazzo, che verrà monitorato dal punto di vista sismico. Nei vari piani, nei vari appartamenti, ogni appartamento ha perlomeno due o tre sensori che sono stati ubicati in piccole nicchie all'interno dei muri esterni. Questi sensori adesso verranno collegati da una ditta che ha fatto questo intervento. Dopodiché leggeranno questi sensori tutte le eventuali scosse sismiche che ci auguriamo che non siano più di tante, però che nei prossimi anni verranno. C'è una centrale, credo è uno studio che sta in Calabria, se ben ricordo, però mi sfugge adesso il nome, che monitorerà nei prossimi anni questo tipo di... ed è una cosa all'anguardia. Credo che all'Aquila Palazzo Mannetti forse è il primo o comunque tra i primi. Palazzo Mannetti, Palazzo dell'emiciclo, i sottoservizi, Palazzo della Castellina e Palazzo della Carispac, solo alcuni esempi di cantieri in corso e lavori già terminati che daranno l'idea di come sarà la città del futuro. È un po' quello che ho descritto prima, praticamente iniezioni alle murature, rete di basalto e betoncino, controventature, irrigidimenti metallici e consolamento della struttura d'acciaio, gas e strusso con rete di acciaio e resine. Quando sarà riconsegnato questo palazzo, la città? Se tutto va bene, fra un anno e mezzo potremmo farcela. Se avete qualcosa già sulla prossima destinazione d'uso, resterà banca, avete già qualche notizia? Una parte dovrebbe restare banca e una parte diventerà commerciale. E adesso apriamo la pagina sportiva e lo facciamo con il turno infrasettimanale di Serie A. È stata una serata assolutamente negativa sotto tutti i punti di vista per il Pescara che ha collezionato un'altra sconfitta a domicilio, sanguinosa contro l'Atalanta. Ma vediamo il quadro intero della giornata, questi i risultati del decimo turno. Chievo-Verona-Bologna 1-1, Fiorentina-Crotone 1-1, gara che è terminata con molti minuti di ritardo perché la partita è stata sospesa nel primo tempo per via di un forte acquazzone e quindi è finita molto molto dopo rispetto alle altre gare. Genoa-Milan giocata ieri 3-0, Inter-Torino 2-1, Juventus-Sampdoria 4-1, Lazio-Cagliari 4-1, Napoli-Empoli 2-0, Palermo-Udinese sarà il posticipo di domani sera, Pescara-Atalanta 0-1 e Sassuolo-Roma 1-3. Per una classifica che vede in vetta sempre la Juventus 24 punti, in scia resta la Roma 22 e poi il Napoli 20, si stacca il Milan che resta a quota 19, poi Lazio 18 punti, Atalanta 16, Genoa-Torino e Chievo-Verona 15 punti, Inter 14, Fiorentina-Bologna-Sassuolo e Cagliari 13 punti, Sampdoria 11 punti, Udinese 10, Pescara 7, Palermo ed Empoli 6 punti, Crotone 2 punti. Questa dunque è la classifica e adesso andiamo a vedere gli highlights della partita giocata questa sera alle 20.45 tra Pescara e Atalanta e risolta dal gol di Caldara. Pescara con le novità Manai al centro dell'attacco insieme con Caprari, anche se in questo assetto 4-1-4-1 Caprari che si defila sulla corsia di sinistra. L'altra novità Zampano schierato più alto rispetto al solito con l'inserimento di Crescenzi in difesa. In panchina Benali è Cristante, c'è chiaramente Fornasiera al centro della difesa con Campagnaro, Biraghi a sinistra, questi è Tullio Gritti, vice di Gasperini che è squalificato, Gasperini che per questa partita schiera Paloschi al posto di Petagna, Paloschi preferito a Piniglia e poi in difesa c'è Zucanovic al posto di Masiello confermato Conco al posto dell'infortunato Toloi. Questa è una conclusione dalla distanza ma molto debole di Dramè, non è una partita esaltante, accade ben poco, questa è l'occasione migliore nel primo tempo per l'Atalanta con questo colpo di testa cercato e trovato da Zucanovic. Poi sempre nel primo tempo questo cross basso che viene liberato dalla difesa del Pescara, vedete di clamorose palle gol, non se ne registrano almeno fino a quando non ci sarà, dopo la scossa di terremoto delle 21.18, eccola qui la scossa di terremoto che viene avvertita sugli spalti, i giocatori non se ne rendono conto ma capiscono che qualcosa sta accadendo dal movimento delle persone. La partita sarà interrotta da guida di Torre annunziata per un paio di minuti, ecco qui la gente che si alza in piedi, c'è paura, in tanti chiamano i propri familiari per sapere come vanno le cose, vedete l'arbitro guida dopo due minuti dà l'ok per il ripristino delle ostilità, come ci hanno confermato i protagonisti in campo la scossa non si è avvertita. La ripresa delle ostilità ancora Atalanta, accade ben poco ma quel poco è tutto di marca orobica con questo colpo di testa centrato da Caldara e la palla si stampa contro la traversa, ma Caldara avrà modo di rifarsi e di segnare gol partita nella ripresa. E siamo effettivamente nella ripresa, questi è Massimo Odum, Pescara decisamente al di sotto delle attese, decisamente al di sotto anche della prestazione ad esempio di Udine di domenica scorsa, qui c'è uno spunto e una conclusione in girata di Manai, la palla che però sorvola la traversa, una delle poche azioni del Pescara e poi qui dovremmo essere al gol partita, segnato al quarto d'ora della ripresa da Caldara, il giocatore lo scorso anno al Cesena in presido aveva già evidenziato il vizietto del gol che evidentemente non ha perso, questo è il suo primo gol in Serie A per il giovane difensore Caldara, non riesce sulla linea a respingere Biraghi. L'Atalanta che insiste, vuole chiudere la partita, c'è questo destro appena sopra la traversa di Jasmin Kurtic e poi ancora le immagini proseguono, riproponendoci il replay dell'azione che ha mandato al tiro Kurtic, ancora l'Atalanta riesce a fare ben poco il Pescara per pareggiare, c'è questo sinistro che però finisce a lato da parte di D'Alessandro. Ancora le immagini che scorrono, si attende vanamente la reazione del Pescara che non c'è, e arriva il trepice fischio di guida di Torre annunziata. Pescara 0, Atalanta 1, possiamo allora proseguire e scendiamo in Lega Pro con il prossimo servizio, parliamo di Teramo. Un ulteriore messaggio è stato lanciato dai tifosi del Teramo che ieri hanno esposto uno striscione diretto ai calciatori. Il discorso è che gli alibi sono finiti e che bisogna giocare mostrando gli attributi. Questo chiedono i tifosi, questo chiederà ai suoi calciatori anche il tecnico Federico Nofri. Quel che fa specie è che l'allenatore Umbro, che fa del carattere della Tempra uno dei propri marchi di fabbrica, faccia difficoltà a inculcare questi diktat come la gara con l'Albinoleff ha confermato, in particolare nel secondo tempo. Per questo è scesa in campo alla società con la strigliata di inizio settimana dal presidente Campitelli che ha il lavoro per individuare la figura di un nuovo direttore sportivo sui cui nomi al momento c'è il massimo riservo. Una figura che non solo potrebbe aiutare nell'area tecnica l'allenatore Nofri ma che dovrà anche individuare le strategie da perseguire nel mercato di riparazione di gennaio dove, sembra inevitabile, un intervento incisivo. In attesa che la scelta sia fatta e ufficializzata, da qui a due mesi c'è ancora tanto da giocare e bisogna restare in linea di galleggiamento a partire dalla gara di sabato sera al Pietro Barbetti di Gubbio, stadio che due anni fa fu espugnato con un sonoro 4-1 con i sigilli di Donnarumma, La Padula e Petrella, stadio nel quale, d'altro canto, il diavolo giocò e perse la finale della Pool Scudetto di Serie D nel 2012. Il prossimo avversario, il Gubbio di Beppe Maggi, neopromosso dopo un anno di Purgatorio in D, è una delle principali sorprese del girone, terzo a due punti dal duo di Vetta, Venezia-Bassano. Curiosamente però, in casa, ha perso tre partite a fronte di due vittorie. La differenza, gli agubini, l'hanno fatta in trasferta dove hanno centrato 13 dei 15 punti in paglio, definita la direzione di gara, affidata a Dapice di Arezzo. Noi andiamo a chiudere il nostro telegiornale con un ultimo servizio parlando di ciclismo. Assessore Polucci, il Giro d'Italia torna in Abruzzo, torna sulla Maiella, tanti bei ricordi, ma una cartolina importante per la nostra regione, un privilegio tornare ad ospitare la Corsa Rosa. Esattamente così, è una candidatura che abbiamo fortemente voluto e siamo davvero soddisfatti che ci sia stata accettata da RCS perché rappresenta per noi una grande vetrina. Intanto è una tappa tutta abruzzese che fa conoscere le parti migliori dell'Abruzzo, da un lato la costa e dall'altro una grande salita, una delle più dure del Giro che ci riporta a situazioni sportive di 50 anni fa. È l'ultima volta che si percorse quella salita così dura. È definita tra tutti tra una delle tappe più impegnative e per quanto ci riguarda, oltre a tutto questo, c'è un grande momento di promozione del nostro territorio. Perché poi sappiamo che la carovana del Giro è connessa a tanti altri aspetti e che rappresentano una leva promozionale turistica e per cui è un grande appuntamento che la regione ha fortemente voluto nell'occasione del centesimo Giro d'Italia. Quanto è stato difficile strappare questa tappa alla RCS? Impegnativo quanto la salita del blockhouse. Assessore, e poi non volete fermarvi perché oggi si parla di Giro d'Italia con la tappa abruzzese ma c'è anche un'altra importante notizia? Lanciamo anche la candidatura della regione Abruzzo a ospitare il campionato italiano ciclismo su linea nell'occasione del trofeo Matteotti. È un'altra grande e importante candidatura. Abbiamo avuto l'occasione di poterlo ospitare per tre volte nella nostra storia, ci candidiamo per una quarta volta e vediamo di comporre un'occasione, quella del 2017, unica per la nostra regione di essere ricordato certamente dal punto di vista sportivo come anno del ciclismo. È tutto per questa terza edizione del TG6 che torna domani con l'edizione delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte. Grazie per l'attenzione e buonanotte. Grazie per l'attenzione e buonanotte.